Oggi è la giornata del malato, 11 febbraio 2021. Il Papa ci invita ad avere coerenza tra quello che crediamo e quello che facciamo. La cosa importante è mettere sempre al centro il malato con i suoi bisogni materiali e spirituali. Questa giornata è molto importante proprio per dare valore e significato anche alla malattia e alla sofferenza che a volte viene messa da parte invece ha un valore aggiunto. Nella sofferenza e nel dolore cerchiamo di sentire sempre la solidarietà. Quest'anno il nostro grazie va soprattutto ai curanti, a tutti coloro che svolgono delle professioni sanitarie per quello che hanno fatto soprattutto in questo periodo pandemico, medici, infermieri, osso, operatori in qualsiasi settore all'interno dell'ospedale. Veramente un grande grazie a loro, un grazie ai familiari e un grazie agli ammalati che hanno avuto veramente la forza di riprendersi.